Si introducevano in attività commerciali per derubarle, ma con uno schema sempre uguale e ormai quasi infallibile. E per due giovani cosentini di 23 e 30 anni l'accusa di furto ha gravato in concorso che nello scorso periodo estivo avrebbero colpito nei comuni di Montalto Fugo, ma erano principato e rovito. I due, dopo aver forzato le porte d'accesso delle attività commerciali, si introducevano per poi asportare diverse merce, tra cui sistemi di videosorveglianza, tabacchi vari per un valore complessivo di 3.557 euro, assegni bancari, incassi per un valore di 300 euro, il denaro contenuto nelle coin machine fino ad arrivare alla somma di 1.400 euro e bottiglie di superalcolici di valore. I carabinieri di Rende e Cosenza sono riusciti ad individuare i responsabili attraverso l'analisi delle modalità dei furti. I soggetti infatti effettuavano poche ore prima un sopralluogo al fine di verificare la presenza di sistemi di allarme o di telecamere e in un secondo momento, coperti da un cappellino, facevano irruzione nei locali forzando l'ingresso per poi asportare quante più cose possibili. Al termine delle formalità di rito, i due soggetti, uno ristretto presso la casa circondariale di Paola, l'altro agli arresti domiciliari, sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.